David, questo è un mio vecchio amico, Charlie Venner. Mio marito è il professor Sumner. Mi piace. Molto lieto di conoscerla. Lei lavora qui? Quando capita? Charlie Venner? Qualcosa ci ha fatto? Anni fa? Erei un bugiardo, lo sai. Mi ci trovo bene. Perché quelli ridono sempre? Ti considerano diverso da loro. Chi è che ti ha sfogliata con gli occhi? Ben Rescat. Si vede che hanno buon gusto. Questa è casa mia. È parte di me. David! E non permetterò nessuna violenza contro ciò che è mio.